Venerdì 13 ottobre si concluderanno le celebrazioni per il centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima alla parrocchia Santa Flavia di Caltanissetta, sede del santuario diocesano dedicato alla Vergine apparsa ai tre pastorelli portoghesi il 13 maggio del 1917. Due celebrazioni solenni scandiranno la giornata conclusiva dopo un anno di incontri e di momenti spirituali che hanno visto passare dal santuario nisseno migliaia di fedeli. Alle 11 di venerdì il vicario della diocesi Monsignor Giuseppe Laplaca celebrerà la santa messa al termine della quale verrà recitata la supplica alla Madonna di Fatima per invocarne la protezione. Alle ore 18 sempre a Santa Flavia il vescovo Russotto concluderà le manifestazioni del centenario presiedendo una solenne celebrazione.